è una station wagon che combina sportività negli esterni e comfort negli interni top 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 sto parlando di Kia Seed station wagon nell'allestimento business class un modello con motore da 1600 di cilindrata, 115 cavalli e alimentazione diesel vettura aziendale con unico proprietario precedente, trattata benissimo, guardate la carrozzeria che è perfetta e poi è garantita e certificata perché come tutti i nostri veicoli anche questa Kia Seed ha superato il test dei 150 punti di controllo eseguito dai nostri automotive experts il colore è piuttosto sobrio, grigio, scuro, metallizzato ma guardate quanta personalità nel lato anteriore con queste cromature e come vi ho già anticipato linee super sportive sicuramente si tratta del veicolo adatto a chi percorre moltissimi chilometri perché il design è molto bello ma poi quando vado negli interni trovo un comfort incredibile ora continuiamo sugli esterni e vediamo i cerchi in lega da 16 pollici in condizioni ottime moltissime cromature a circondare i finestrini devo dire che il design è davvero davvero incredibile ho detto che è adatto a chi percorre moltissimi chilometri perché i consumi sono ridotti solo 3,9 litri per 100 chilometri nel tracciato misto e in più grazie all'alimentazione diesel ti regala una guida super fluida quindi tanta roba ma poi il bagagliaio è infinito guardate quanto spazio avrete a disposizione per il lavoro, per i vostri viaggi con la famiglia sono 625 litri che diventano 1600 abbattendo i sedili posteriori entriamo nel lato posteriore guardate quanto viaggeranno comodi i passeggeri posteriori sicuramente tantissimo spazio a disposizione il bagagliaio quindi non dà problemi, è gigantesco ma c'è tantissimo spazio anche nell'abitacolo come vi avevo già detto tanto tanto comfort certamente è un veicolo d'occasione per chi percorre tantissimi chilometri per lavoro come ho già detto guardate quanto viaggerà comodo il guidatore si potrà far coccolare da questi sedili avvolgenti volante con comando per il cruise control, comando vocale e comando per le chiamate ho acceso il veicolo e notiamo assieme che ha percorso solo 14.060 chilometri davvero pochissimi sistema di infotainment con tantissima tecnologia abbiamo la connessione bluetooth per lo smartphone ma abbiamo sempre per lo smartphone la connessione tramite android auto e apple carplay poi il navigatore satellitare, tantissima roba più sotto anche dei tasti analogici sempre per la gestione dell'infotainment il clima che è automatico e bizzona e poi presa usb, presa aux, presa da 12 volt e presa usb per la ricarica rapida infine ho il cambio manuale che nasconde una chicca, la retrocamera, molto comoda per parcheggiare in città se percorri tanti chilometri e stai cercando un'auto super confortevole questa Kia Seed fa al caso tuo puoi andare sul sito rattiauto.com e bloccarla con soli 100 euro senza impegno la puoi ricevere comodamente a casa tua con igienizzazione e garanzia europea e hai diritto di recesso a 14 giorni non dimenticarti poi di seguirci su tutti i nostri social a me a questo punto non resta che dirti al prossimo video alla prossima auto